Simson Oh mio Dio Marty cosa hai fatto? Ohioioioioioioia Che cosa fatti? Cosa è stata? LULLERAMETE FAMILIA Marti hai ucciso un'eمكنta famiglia Rita ha un patrimonio nazionale Io sono solo un bambino, sono solo un bambino, non voglio andare, si sono... I nostri morti, caldati, ci pensiamo noi. Va bene, voglio che porti quella promessa e questa foto a questo indirizzo che ti do adesso. Ci faranno dei nuovi Simpson, capisci? Wow, e tu cosa farai? Devo pulire questo posto prima che arrivi qualcuno a curiosare. Sai, ci sono un sacco di personaggi nei Simpson, morti. Tipo, ce ne sono un fottio, morti. Hanno fatto un episodio in cui George Bush era loro vicino. Ok, non posso discutere. Grazie a tutti. Oh, 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 ciao, 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 ricinino. Sembra che tu abbia un'astronavina nel tuo... Chi sei tu? Rick, sono tornato. Sveglia, sveglia. Era ora, morti. Dammi qua. Oh, wow. Ehi, morti, piccolo consiglio. Non pulire mai le provette di DNA con il tuo sputo. Miracolo. Dove la convenienza indossa un sombrero al neon e dove non c'è né una chiesa né una biblioteca che offenda l'occhio. Eccolo lì. La catena che ti accende la miccia e ti aumenta la ciccia. Voglio una ciambella colossale come quella dell'insegna. No, cavoletto. Quella è una pubblicità ingannevole. Piacente, signore, niente rimborsi. Ho pagato per avere una ciambella colossale e stai certo che avrò una ciambella colossale. Lei non ci fa paura. Gli astronomi datacomasi in abblativo stocco hanno appena rinnovato una perturbazione ionica nelle vicinanze. Gli scienziati raccomandano di adottare tutte le precauzioni necessarie. Ma che ne so? Sì? Oh, se stai cercando quella tua grossa ciambella, c'è la Flanders. Squarciagli la casa. Si è animato. Buon per lui. Oh, ti aiuta! Ti ho detto che ce l'ha Flanders. Oppure boh, elimina boh. Oh, Mary, dagli la sua ciambella e basta. Almeno la finiamo con tutto questo orrore. Eh, ok. Se porrà fine all'orrore. Non ti spanchi mai di avere sempre torto? Qualche volta. Questi mostri stanno distruggendo tutti e tutto ciò che c'è caro e voi due. Perché non avete la giacca? Ehi, che caz... Ehi, che caz...